Il quadro d'insieme del sistema manifatturiero della provincia di Arezzo presenta nel secondo trimestre dell'anno un ulteriore aggravamento della situazione. La produzione infatti registra una flessione complessiva rispetto al secondo trimestre del 2011 del 6,4%, ben più rilevante del 3,9% osservato nel trimestre precedente. Anche a livello regionale il segno è comunque negativo anche se l'intensità della contrazione è un po' meno marcata, fermandosi a un meno 4,9%. Dai dati congiunturali del secondo trimestre emerge un sistema economico locale, sottolinea il presidente della Camera di Commercio Giovanni Tricca, ancora fortemente impegnato ad arginare un quadro recessivo che sta fortemente condizionando produzione, fatturato ed ordinativi delle nostre imprese. E' soprattutto la debolezza del mercato interno, assieme ad altri fattori, quale ad esempio le difficoltà di accesso al credito e del costo dell'energia, a deprimere un'economia a forte specializzazione manifatturiera, quale quella retina. Debolezza, quella dei consumi interni, resa ancora più evidente dalle buone performance che ormai da alcuni trimestri contraddistinguono l'export provinciale. Certamente l'allineamento della produttività delle imprese italiane rispetto ai principali partner europei, argomento al centro del dibattito politico-economico, potrebbe determinare una scossa benefica al sistema. Un aumento della produttività che necessita per la sua realizzazione di forti investimenti e quindi di ingenti risorse delle imprese e del sistema pubblico. A proposito della questione investimenti, sottolinea Tricca, mi preme ritornare sul tema del potenziamento infrastrutturale della nostra provincia e in particolare del completamento della Due Mari, che mai come in questo momento può rappresentare un volano per il territorio retino e per il sistema economico dell'Italia centrale.